E' stato trovato con 50 grammi di cocaina a bordo di un'auto a Tivoli. E' quello che è successo al rapper Simoncino, noto artista della scena romana, Simone Martucci all'anagrafe, che è stato quindi fermato e arrestato per possesso e spaccio di droga. A dare la notizia ha la sua stessa pagina ufficiale di Facebook. Nei giorni scorsi si legge in un post rivolto ai fan, Simoncino è stato arrestato per spaccio di droga, attualmente è ai domiciliari. Noi nella Gigon Music sosteniamo il nostro artista, supportandolo in questo periodo buio. Per i fan invece uscirà ugualmente il suo album ufficiale, sia in copia digitale che in copie fisiche. Per il momento ovviamente non usciranno altri video. Mentre i fan si allarmano, attualmente Simoncino è ancora agli arresti domiciliari.